Si sono compiute mille giorni dall'invasione dell'Ucraina una ricorrenza tragica per le vittime e per la distruzione che ha causato ma allo stesso tempo una sciagura vergognosa per l'intera umanità questo però non deve dissuaderci dal rimanere accanto al martoriato popolo ucraino nel dì dall'implorare la pace e dall'operare perché le armi cedano il posto al dialogo e lo scontro all'incontro grazie 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 a tutti.